ovviamente ci avete chiesto un nostro puro e semplice alla fine parere personale in merito a questa operazione di calciomercato da una parte i tifosi della Roma dall'altra i tifosi della Lazio i tifosi della Roma i tifosi della Lazio è ironia ma non troppo siamo qui per esprimere appunto il nostro parere in merito al trasferimento di Roger Ibagnaz che passa dalla Roma alla Lali alla Saudi Pro League detto con de mezzo il post di José Mourinho non so se l'hai visto comunque Mourinho è in grande dal punto di vista proprio istrionico della situazione lasciate semplicemente mi piace per supportare i nostri contenuti calcistici ovviamente non vi costa assolutamente nulla farlo è un modo per ringraziarci di tutti i contenuti che vi portiamo ci farebbe però più piacere oltre al mi piace qualora vi iscriveste e attivaste la campanella uno per restare sempre aggiornati ogni volta che pubblichiamo qualcosa due perché mo' ci siamo fissati non ci speriamo minimamente ma la speranza è l'ultima a morire sogniamo il milione di iscritti ci abbiamo messo 10 anni per far mezzo milione chi lo sa magari tra 10 anni possiamo arrivarci però regà se ci seguite spesso e non siete iscritti fatelo fateci contenti ci farebbe veramente tanto piacere due canali di calcio un canale extra calcio li trovate in infobox o durante il video compariranno qui che c'è sta i bagnes qua in mezzo no e selic che da lontano poteva sembrare il bagnes vabbè tu poi che in cevedica pure se ti avvicinavi non sarebbe cambiato se fossi avvicinato non avresti capito niente cosa no 25 milioni di euro più bonus però da quello che ho capito 25 totali no 25 più 10 di bonus avevo capito io dai letti solo 25 totali l'abbiamo regalato praticamente a 25 totali l'operazione era da 25 più 10 di bonus questo è quello che ho capito io ma secondo me hai capito veramente male ma no come fanno a essere solo 25 in totale ma no ma l'ho visto sul Fabrizio Romano vedi sul twitter di Fabrizio Romano lo vediamo subito ma te lo dico io la cifra era era 28 totali allora qua dice 28 e mezzo di parte fissa più bonus parla Fabrizio Romano a raggiungimento di 30 totali ok avevo letto addirittura 25 di parte fissa e 10 di bonus famo 30 famo che so comunque famo che so 30 e che non so 25 sicuro non so meno di 20 25 no perché so pochi 30 sicuri qualcuno potrebbe stare a fare una risata dice ma come con tutti i danni e l'autocollo che va fatto certo so pochi pari come quello però vabbè capite bene che ovviamente parliamo anche di Saudi Pro League no però ora sono curioso di vedere una cosa i bagnez cosa vuoi dire transfer market quanto valuta la produzione mi sembra una trentina proprio se non mi sbaglio c'è ancora 24 anni però 30 pari pari comunque ancora 24 anni ma in bagnez è tanto tempo in bagnez va in giro da una vita è un qualcosa di clamoroso se ripenso a come l'abbiamo preso dall'Atalanta si l'abbiamo preso che era quasi un perfetto sconosciuto c'erano delle buone aspettative su sto ragazzo ma arrivava a Roma dove praticamente non c'aveva manco una presenza se non mi ricordo male a livello professionistico ti parlo perché comunque con l'Atalanta era arrivato ma non aveva mai giocato è stato preso da noi e praticamente appena arrivato lui sin da subito è stato un calciatore importante perché comunque specialmente nella prima parte lui appena arrivato l'ha dimostrato si era subito messo titolare in quella difesa che ha portato avanti per tanti anni perché poi diciamo le cose come stanno i bagnez quando è venuto a Roma ha sempre giocato titolare praticamente tra alti e bassi tra alti e bassi ok titolare sì fino a quest'ultimo periodo in questi ultimi sei mesi quando è arrivato Llorente perché un pochino nei confronti di Llorente aveva perso qualche volta è partito indietro quando erano entrambi alla pari di condizione veniva preferito Llorente periodo parentesi durato abbastanza poco perché poi è stato infortunato Llorente e torna a giocare i bagnez e purtroppo sappiamo tutti su quali livelli quindi diciamo che i bagnez dell'ultimo periodo sicuramente non è stato l'i bagnez migliore che abbiamo ammirato a Roma certo è che riesci a venderlo per una cifra secondo me congrua perché le offerte che venivano da altre squadre sicuramente più importanti della Lali non erano identiche che erano sicuramente molto più basse molto più basse sicuramente forse a livello professionale per il giocatore migliori però andiamo a vedere quello che è il volere della società a livello economico per il giocatore quella migliore è quella che ha era assolutamente questa qua e di conseguenza migliore anche per noi a essere Roma perché raga è una cifra che non c'è dava nessuno siamo riusciti a strapparla alla Saudi Pro League che obiettivamente è l'unica lega che può offrire cifre maggiori rispetto a tutti gli altri tranne che per Brozovic come sempre perché per Brozovic io non ho capito come ha fatto l'Inter accedere a così pochi soldi addirittura cioè sarebbe veramente una cosa assurda sarebbe saltato tutto ma è un qualcosa di assurdo perché solo con Brozovic io farei una petizione contro solo per l'operazione Brozovic c'è poracci sarebbe saltato tutto però al di là di questo che sia parte te dispiace o non te dispiace devi essere onesto allora io comunque al di là di tutte quelle che sono state le vicissitudini con i bagnez io ti dico che alla fine mi dispiace perché è un calciatore che pure a me ci abbiamo avuto per tanti anni pure a me per quanto mi ha fatto un cazzà perché ci sono state delle situazioni in cui veramente mi sono arrabbiato ma sai che mi ero proprio affezionato dal punto di vista umano dal punto di vista personale perché comunque era il ragazzo che lottava per la maglia che si è sempre messo a disposizione sempre a disposizione anche nelle sue imperfezioni nei suoi errori professionale comunque sempre professionale ma è una parola fuori posto sempre tranquillo non ha mai creato problemi senza creare problemi assolutamente per cui sotto questo punto di vista dal punto di vista professionale rimpiangerò sempre la mancanza dei bagnez perché io sono d'accordo professionisti esemplari in questo modo ce ne vorrebbero molti di più e per quanto poi alla fine ha accettato una proposta di un club dell'Arabia Saudita per quanto alla fine però c'è necessità lo sapete forse in alto necessità decede da parte della S Roma c'era di togliere per rinfrescare le casse bravissimo Mourinho continua a chiedere continua a chiedere l'attaccante 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 che ve pensate perché anche perché che poi noi se tu vai ma se tu vai guarda voi apri sta parentesi poi la chiudo a noi sono entrati i giocatori ma quant'hai speso zero hai speso zero cioè possiamo farci un contenuto dedicato in merito noi quest'anno non abbiamo speso un euro per quanto poi non ci possiamo ritenere insoddisfatti dalla campagna acquisti fatta finora perché qualche giocatore importante è arrivato però so sono tutte occasioni di calciopercato stop punto tu hai speso zero un motivo ci sarà se vede che a livello economico insomma dovevi far uscire qualcosa prima di fare in tra l'altro quindi l'hai sacrificato necessario si è sacrificato ha capito le esigenze della società o semplicemente ha accettato attenzione perché oltre all'offerta della Lali c'era anche l'offerta del Nottingham Forest che però a livello ovviamente come dicevo prima di prospettiva per il calciatore andare a giocare in Premier League era comunque un ulteriore banco di prova avrebbe avuto non dico uno step in avanti nella carriera però avrebbe sicuramente mantenuto lo status e io infatti nei suoi panni quello avrei fatto esatto non si è impuntato con la società dicendo io voglio solo il Nottingham Forest te credo chissà quanta gli hanno offerto a livello economico sicuramente la proposta della Lali è stata superiore rispetto a quella del Nottingham però una va benissimo sono d'accordo scelta ripetibile però io credo che lui si sia messo nei panni anche della società e abbia scelto cioè io credo che la sua scelta sia stata anche influenzata un minimo da quello che poteva essere meglio per la società Roma la vedo un pochino in questo senso fosse stato un altro probabilmente all'età sua non avrebbe accettato la destinazione a Lali sono tutte supposizioni che fai te che posso fare io al contrario è una mia idea non sta scritto da nessuna parte che sia così però per come l'ho letta la situazione credo che abbia fatto anche il bene della società e sborso economico maggiore per la società per il cartellino e sborso economico maggiore per lui dice senti sa che c'è e non crea storie vado là poi chissà tra anno e mezzo o due posso senza problemi tornare in Europa il posto di Murigno molto rapidamente perché in realtà lo ufficializza lui perché poi arriva un'ora dopo arriva il post di Fabrizio Romano che dice here we go che dice le cifre ed entra nei meriti e nei dettagli anche con lo stesso Gianluca Di Marzio è tutto successivo quello però che fa Murigno per quanto sia velato per quanto poi lui ha ribadito che non è che sta a come si dice a ferro il coltello come si dice con la società no no assolutamente con Pinto e via dicendo non è che sta in quei tipi di rapporti però ha detto no Pinto sa che sta in ritardo Pinto sa che qua manca roba che sta per cominciare il campionato e che io là davanti c'ho solo Belotti non so se vi è stata a rende conto poi ve lamentate se a fine stagione non si raggiungono quelli che sono gli obiettivi stagionali capite bene che è una squadra che vuole provare ulteriormente anche in questa stagione per terzo anno di fila perché Murigno è il terzo anno che sta alla Roma vuole provare a prendere l'obiettivo che comunque si erano prefissati la Champions League arriva a sto punto così io mi metto nei panni di Murigno e onestamente lanciare queste frecciatine ce può stare la vedo così non credo che abbia fatto niente di male la vedo come una frecciatina però ha pure detto me nevate tra virgolette un altro difensore comunque giovane comunque di prospettiva che faceva cazzate ma con cui mi trovavo bene di cui mi fidavo perché l'ha detto anche lo stesso Murigno per quanto ripeto se io poi ripenso a tutte le cappellate che ha fatto lì per lì nelle singole partite mi sono arrabbiato come che e ci sono i video su YouTube che lo attestano però non è quel calciatore che ha fatto vedere solo il peggio di sé forse è questo che mi fa dire sportivamente mi dispiace perché poi c'è avuto delle prestazioni delle situazioni in altre tante altre partite dove ha dimostrato di essere un calciatore all'altissimo dove ha dimostrato di essere un calciatore comunque importante anzi c'è stato un grosso periodo in cui Bagnets lo potevamo definire tra attualità quindi presente e la prospettiva il calciatore forse più forte a livello difensivo che potevamo avere perché comunque Bagnets l'ha dimostrato potenzialmente a livello potenziale anche dal punto di vista realizzativo non fosse purtroppo ahimè quel classico difensore brasiliano dove ogni tanto la capoccia che fa così on e off ogni tanto che va su off spegne completamente il cervello e fa quello che è capace di fare perché purtroppo è capace di fare tante cose in positivo ma altrettanto in negativo lui è decisivo sempre e comunque sia da una parte che da un'altra in positivo e in negativo a livello economico vi dico ragazzi va benissimo perché io sono sicuro così non potevamo avere il Nottingham non so l'offerta del Nottingham ma secondo me manca a 25 no mi sa che a 25 sono arrivati avevo letto se non sbaglio io ho 20 perché l'ho letto poco fa 20 più 10 era l'offerta del Nottingham non del Tottenham mai nella vita però forse quei 10 milioni di bonus non erano così facilmente raggiungibili quindi forse tra i 20 e i 25 già 25 proprio perché nell'ultimo periodo il Bagnez è stato negativo no ma chi te li dà quindi io te dico per quello che ci abbiamo ricavato ci esce tutto di positivo però la domanda è te la giro e ve la giro muo entra qualcun altro al posto dei Bagnez no perché ce ne avevo gli sei dei difensori 5 ma bastano tu giochi che la difesa a 3 non giochi che la difesa a 4 basta perché dice che scali hai giocato Christensen della situazione scali centrale quello con scali giocavo con difensori in meno cioè di solito ce ne servono 5 per un pacchetto a 3 abbiamo giocato con 4 quest'anno ce ne abbiamo 5 famosci bastasti 5 per favore io un altro lo vorrei prima attaccante però un altro non è l'urgenza del mercato al momento non è l'urgenza quindi ok dal punto di vista economico ma tutto sull'attaccante ripenso agli errori dei Bagnez quando penso che se ne sia andato seppur ripeto penso anche a quello che De Buono ha fatto però al netto di tutto quanto ci si ricorda sempre le cose negative rispetto a quelle positive quindi io lo sputo nel piatto in cui ho mangiato nel senso io ho comunque rispetto dei Bagnez al netto di tutto quanto non ricordo solo le cose negative quindi però le strade si sono separate un grosso in bocca al lupo ai Bagnez e noi guardiamo avanti e cerchiamo di capire quello che sarà la Roma che sarà del futuro della prossima imminente stagione con i problemi numerici che dobbiamo ancora risolvere vuoi aggiungere qualcos'altro? no no voi la vostra qui sotto nei commenti vi ringraziamo per la visione di questo contenuto e ci vediamo alla prossima con un nuovo video ciao ciao ragazzi ciao ciao ciao